Si svolgerà domenica 23 ottobre presso le officine Fornari dalle 19 l'evento dal titolo Mind On incentrato a Cerignola sulla sensibilizzazione e promozione della cultura e del benessere della persona. L'evento si svolgerà presso le officine Fornari nella cittadina Ufantina. L'apertura del convegno sarà tenuta dalla psicologa Maria Pia Gisaio e poi ci saranno i saluti istituzionali dell'assessore alle politiche sociali Reino Pezzano. Interverranno lo psicologo e psicoterapeuta Marco Petrozzi poi la musicoterapeuta e pianista Caterina Foscaldi insieme alla psicologa Antonia Castriotta. Tra l'altro verranno allestiti degli stand per fornire informazioni utili per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche di cui si occupano sul territorio. L'evento si inserisce in un programma nazionale promosso dall'Ordine Nazionale degli Psicologi perché ottobre è il mese del benessere psicologico e lo scorso 10 ottobre è stata la giornata nazionale della psicologia. Mimo Siena, Speciale News.